E perciò voi ce l'avete in prima assoluta, abbiamo il Consiglio Comunale martedì prossimo alle ore 17. Un conto, visto che ormai tutti gli interventi che devono essere fatti su questo documento, come piuttosto sugli altri allegati e sul bilancio, che ormai gli interventi ci sono già stati svolti, perciò non dovrebbe esserci grandi sorprese, nel senso che i 14 presenti per dichiarare valida la seduta ci saranno e a questo punto bisogna avere un voto più degli altri. Noi confidiamo che oltre ai 19 sì, ci possa essere qualche ulteriore sì e che dall'altra parte non ci siano tutti no, ma ci siano anche delle astensioni. Hanno letteralmente impedito alla città di andare avanti. Per me è stata una grandissima scorrettezza, ma non nei confronti del sindaco, perché ripeto, il sindaco è uno dei tanti cittadini. E qual è il segnale che lei ne trae? Ma il segnale che trago è questo, innanzitutto correttezza. Quando uno dice o mi metti in giunta o ti voto contro, signori non è così che si governa. E il sindaco dice, bene, tanto è il corso dei coriziani che io voglio che tutta la città si esprima. E questo ha creato malessere in chi voleva utilizzare, speculare, perciò utilizzare elettoralmente il caso di Corsa Italia, perché si sono trovati di fronte a un sindaco che non soltanto dà ragione ai cittadini, ma li vuole sentire tutti. E questo sindaco dice, quello che i cittadini decideranno, questo sindaco... Sono consiglieri della maggioranza anche, no? Che danno importanza a queste firme. E anziché questi consiglieri della maggioranza, anziché dire al sindaco, sindaco, grazie, tu vuoi ascoltare tutti i cittadini? Questi dicono, no, 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 tu ascolta soltanto noi. Ma allora chi è che le ha detto, mi metti in giunta o ti votiamo contro? Qualcuno che vota contro adesso. Quindi uno di quelli che è uscito l'altra sera? Se lei me lo chiede io le dico di sì, occhio che se cado, io peso 126 kg, farvi ando come lei sa. Quindi, diciamo, c'è l'onda d'urto. Questa è già una lettura politica, è già una lettura politica per quelli che non sono rimasti in aula l'altra sera.